Il nubifraggio che ha colpito la campagna nella notte di sabato e le prime ore della domenica ha creato non pochi danni in città e in provincia. La pioggia, quasi incessante, ha creato numerosi allagamenti, colpendo anche la nuova struttura del Covid Center ospedale del mare, dove si sono verificate delle perdite d'acqua, nessun problema per i 15 pazienti ricoverati. Numerosi allagamenti di sottopassi e scantinati, diverse le segnalazioni di alberi abbattuti e di cancelli stradali finiti a terra anche a causa del vento forte che ha flagellato in particolare la zona costiera. Difficoltà per i collegamenti con le isole di Caprischi e Procida, situazione difficile nei campi Flegrei, nel comune di Bacoli, dove delle infiltrazioni hanno generato il crollo di una parete di una palazzina e l'apertura di una voragine a Napoli allagata invece via Marina e la rivera di Chiaia, numerose le chiamate ai vigili del fuoco e il temporale ha reso difficile anche la riapertura dominicale pre-natalizia dei negozi in zona arancione, poca gente in strada per lo shopping e pochi affari.